a vedere, vedo che un bioroglio è più bagnato di là, mi è dominato di qua, ok? Basta che lascio qualcosa fuori, lasciate qualsiasi cosa, quante volte si inumidiscono le cose di notte? Ok? Quello infatti mi dice, quindi più che vedere la direzione di un vento, io vedo il momento che mi cambia la temperatura, dove mi può, perché di giorno può anche essere carichissima d'acqua, ma non me la lascio. Ok? Adesso ad esempio in Tenerife, in una delle Canarie, non lo so, dove hanno ripreso una delle classiche maniere per raccogliere acqua, le reti in mezzo ai costruzioni della montagna. Essendo isola c'è sempre il movimento, mettete una rete fita, 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 fita e tot, 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 avete acqua perfettamente pulita. Poi dopo il condensatore ci passiamo. Adesso io l'ultima mezz'ora con quello che è, volevo, anche se siete stanti, ci muoviamo. Ah, una tre stella, non lo so. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? C'è l'altro che non capisce. Uno, due, tre stella. Facciamo il gioco della sedia. Allora, adesso, sempre per rimanere a livello, di comprensione. Perché, benché uno continua a studiare la microbiologia del terreno, la fertilità, tutti gli elementi che mancano, quello e quell'altro, un minimo di biodinamica l'ho seguita, è molto interessante, si può parlare per ore del silicio, di tutte le sue meraviglie, di tante cose. Però, alla fine, anche se, quello che mi sono resa conto è che, sempre sapere niente, se noi riusciamo a promuovere la vita, con quelle quattro cosine che abbiamo detto ieri, ok? E, come dire, noi organizziamo questo rave, cioè diamo la possibilità a dei microrganismi di arrivare, che ci stanno dappertutto, iniziamo il rave, tutti arrivano, ok? E quindi, dopodiché ci sarà un riaggiustimento del pH, arriveranno elementi che non pensano. Insomma, basta che noi diamo un minimo, ricreiamo questa differenza, diamo la possibilità di fermentare aerobicamente, è ovvio che il rave inizia e loro godono e quindi si riproducono e quindi io c'ho fertilità del terreno. Al di là del fatto che io sono spento, mi ricordo i primi anni nel 90, quando avevo questi dieci età, ho fatto un'analisi del terreno, ho cercato di capire, soprattutto molto, è vero, anche quello è utile, ma forse è utile dopo, quando tu, cioè, fai un'analisi, poi dopo vedi, passano un po' di anni, vedi un attimo, in realtà poi l'analisi del terreno la puoi anche fare, ma quando tu vedi le piante come crescono, e ti rendi conto da solo che c'è una modifica. Quindi cerchiamo di capire che cosa è successo un miliardo, due miliardi di anni fa, un miliardi e mezzo di anni fa. Ok? Facciamo un viaggio nel tempo all'indietro e cerchiamo un attimo di capire. Allora, che cosa è successo? Per capire, innanzitutto, perché questo pianeta si chiama Terra? Se è tuffato di acqua, perché la Terra è unica al nostro pianeta e quindi l'abbiamo chiamato Terra. Nei pianeti intorno non c'è Terra, c'è acqua, c'è metano, c'è metano, c'è acqua, c'è un sacco di altri elementi, ma non c'è la Terra. Quando compare la Terra? Cioè, io, arriva la vita, tre miliardi e mezzo di anni fa, per dare delle cifre, non ha importanza, inizia la vita, c'è un a livello inorganico, sì. Ma intanto diciamo che cos'è la Terra così sapete anche che cos'è. La Terra, come la definiamo noi adesso Terra, è un complesso che è fatto di una parte inorganica e di una parte organica. Quindi senza vita la Terra non c'è. Senza la vita per capire come proteggere e come farla. Ciao! Allora, che cos'è la Terra? La Terra è un complesso che ha una parte inorganica. Che cos'è la parte inorganica? Quello che avete appena detto, cioè il lavoro del fatto che, essendo l'acqua solvente universale, essendo movimento, sgretola, fa, fa, disfa, quindi sgretola, ci sono materie sempre più fini, sempre più fini, sempre più fini, fino ad arrivare al materiale più fine inorganico, che è l'argilla. L'argilla è un colloide, ok? Cioè è un qualcosa che si vede più o meno, poi, che è carico negativamente, che è fatto da silicio? Eh? La metto più vicino, dai! Che c'è? Che vuoi? Che c'è? 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 Bene! No, perché così sono più vicina. Allora, l'argilla è un collagene, vuol dire è una materia molto molto fine, si parla di 0,02 micro, che ovviamente appena va a contatto con l'acqua, diventa subito amica dell'acqua, e diventa un tappeto volante, completamente in sospensione. Scusami, vieni più avanti, tanto meno c'è nessuno dietro, quindi... Allora, l'argilla è questa cosa finissima, ok? Che ha due strati, ok? Fatta di quello più di silicio, e che il momento che... Ciao, buongiorno Nicola. Il momento che entra nell'acqua, se è chiusa si apre subito, è micissima dell'acqua, perché è micissima? Beh, perché è tutta negativa, e poi è un tappeto, va in sospensione e ci mette tanto a... Si decantare. No, decantare sale, a depositarsi, a... Precipitare. Sì, precipitare, ragazzi. Precipitare sono i sali e gli ioni insieme, no, precipitare. Sedimentare. Che è successo? Ti è mangiato il pane? Allora, e quindi noi... Sì, sì, sono due facce così. Silicio è carico positivamente. Non ha importanza, sono mezzi di due tappetini. È un filo silicato, è il laminare. È il laminare. Infatti... È una struttura che forma un piano, sono quelli che formano delle rette, dei diani, delle più complesse, questo si chiama la fase del piano. Quindi sono tutti gli elementi laminari. Tappettini. Sono attaccati all'altro, sono attaccati dall'acqua, che in realtà non entro in questo... No, dall'energia elettrostatica, cioè dal... Sì, sono una pellicola attorno sempre d'acqua, quindi un'attrazione. E quando tu, infatti, li tocchi l'argilla, a differenza del limo, anche il limo è piccolino, e tu dici, ma delle volte hanno gli stessi colori. No, il limo è un'altra cosa. È molto più grande, ok? E non ha il viscido. L'argilla è viscido. Ah, questa terra è porcina, dicono da noi. Cioè vuol dire che ha l'argilla. Ed è la sua qualità anche di cui Stefano parlerà per la costruzione. no? Allora, praticamente, tu hai... Allora, aspetta... Ma in sospensione. Sì. Ok, vai in sospensione. Poi in setaccio, le cose, la roccia viene setacciata fino a una certa granulometria, come chiaia, sabbia... Limo? Limo. E poi... Ovviamente il giorno dopo, guardate a vedere... Resta è una soluzione. Resta è una soluzione. Aspetta che vado a prendere un cumulo, una manciata di terra. L'humus che cos'è? L'humus è praticamente casca una foglia, casca un setto, i batteri lo mangiano, e poi le amebe, poi i tifughi, poi tutto quello che mangia, eccetera. Se a questo punto tagliano, degradano, cioè degradano, metabolizzano, abbiamo finalmente l'elemento che è libero, diciamo, e può essere assorbito dalla pianta. Quello è organico. Quello è la parte di humus che... Ora, noi chiamiamo terra un complesso, ok, argilla umico, che ha... che generalmente, ma non sempre, sono due parti negative, che generalmente viene mantenuto dal calcio, che li mantiene insieme. Allora, adesso abbiamo visto un attimo, la mettiamo da parte questa definizione di terra, per riuscire a capire già che, quando è arrivata la vita su questo pianeta, non c'era terra. Ok? E quindi andiamo a vedere. Il primo miliardo di anni, la vita è rimasta dentro l'acqua, e quindi non c'era terra. L'acqua aveva a disposizione tutti gli elementi, minerali, oligominerali, a disposizione. Sono in... In... No. I minerali sono in soluzione. I minerali in soluzione precipitano. L'argilla, in sospensione... Soccolo. No. Soccolo. Sedimento. Sedimento. No, scusate. No, me fanno fuori. No. Insomma, sempre scasca. E stanno... Si vedono. Che poi no, è la bella perché la precipitazione è... Non vedi niente di colpo... Uh! C'è una materia, da dove viene, no? E quello è bellissima. Mentre invece la gira la vedi anche quando non è in sospensione. Allora... E... Va bene. Quindi queste due cose si sono unite e hanno fatto la Terra. Ora... Proviamo un attimo a immaginarci. Qui abbiamo... Qui è passato un miliardo di anni e qui c'è una vita incredibile. Vita cosa vuol dire? Vuol dire che si accumula energia, l'energia serve per riprodursi, per evolvere, diversificare. Però sempre abbiamo i carboidrati che vengono, c'è le catene di carbonio che le piante mi fanno. Io mi vado a mangiare questi zuccheri, ok? Sì, i carboidrati e c'ho l'energia per fare quello che devo fare. Fondamentalmente. Con tutti però gli oli di elementi che sono fondamentali. Quindi sono fatta di acqua e di aria. Allora, a un certo punto c'è una nicchia vuota. Sapete cosa è una nicchia? Sì. C'è una nicchia vuota. Ok? Che stava al di fuori dell'acqua. Una nicchia è l'insieme di energia, tempo e spazio che permette lo sviluppo di un organismo vivente. Ad esempio, c'è una casa vuota e viene occupata dagli occupanti. E perché se vuota deve essere occupata. C'è un panino e c'è un pesce. Non lo mangia. Quindi c'è uno spazio, mi ricordo che qui siamo tutti noi, ma di notte qui noi non ci siamo. E beh, passa il cinghiale che non passa, da me passa il cinghiale. C'è nello spazio, nel tempo c'è un luogo che si libera. La nicchia permette che lui si mangi o si riproduca o faccia quello che deve fare. Ok? Quindi è uno spazio. Il spazio non solo è l'insieme di energia, tempo e spazio che permette la formazione di un organismo. Da tempo su un melorgano ci possono essere tantissime diche diverse. Sia nello spazio, ci abbiamo i microrganismi, i funghi, lombrichi, ci abbiamo funghi e altre amenità. Ci abbiamo uccelli, ci abbiamo noi esseri umani. Poi però anche nel tempo. Io vado a mangiare ora e ovviamente gli uccelli non arrivano. Solo la mattina presto che non ci sono mi arrivano. Quindi permettono cibo, energia e spazio e tempo. Allora, la vita nasce nell'acqua e rimane nell'acqua. Qui c'è acqua. Io sono acqua, tu sei acqua, la pianta è acqua, la terra è acqua. 70% di acqua. 90%. Sì, ed è 90% di acqua. Acqua praticamente. Com'è che è possibile che questa vita che è uscita dall'acqua sia mantenuta in acqua? Andiamo a vedere mille strategie che ho tirato fuori. Andiamo a nominarne alcune. Allora, cosa c'è qua? C'è un luogo in ospitale. Evaporazione, calore, escursione termica. Non ho i miei minerali. Perché mentre io, se sono nell'acqua, posso assorbire i minerali dappertutto? Perché sono in soluzione. No, in soluzione. Invece, se io vado qui, ma chi me li dà i minerali? Non ci stanno. Quindi dovrò trovare la maniera per trovare i minerali. C'è un luogo in ospitale. C'è un luogo in ospitale. Devo rendere ospitale. Probabilmente farlo col serio di poi. È ovvio che all'inizio ci sono stati dei microrganismi, ok? Tipo alghe, che si sono attaccati alla pietra ed erano nella battigia. Cioè nella mia legge. Ed è lì che è iniziato. Vedete il margine quanto è importante? Che è iniziato il... C'è un'altra cosa che devo dire qua del margine. Poi me lo ricordate? Sì. Sì. Ma non hanno ragione. Le cose succedono per necessità. Nel senso che... Io ti darò sempre... Tutti gli scienziati... Tutte le persone che cercano teorie ti danno un punto di vista estremamente antropocentrico. Siamo uomini. Siamo esseri umani. È ovvio che io ti do... Se sono antropo ti do il mio punto di vista. Noi posso farti quello di un marziano. Cioè... Ah ma dal punto di vista... È certo. Sarebbe difficile non averlo. È avvenuto perché c'era una nicchia. C'era uno spazio. È proprio il margine che ci spinge ad andare. Per esempio io vengo qua e incontro voi. Io sono nel margine. Perché io porto me stessa e quello che vi racconto. Voi portate voi stessi. Tu non sei a casa tua. Io non sono a casa mia. Ma ci troviamo qui nel margine. È qui che funziona l'evoluzione. È qui che succede tutto. Poi torniamo a casa. Dobbiamo anche sedimentare. Tazzo. Sedimentare dopo un corso di permacultura. Io sono tornata. Mi ricordo da Thai Algon. E eravamo in quattro in macchina. Avevamo tipo per Sydney un bel po' di ore. Insomma siamo entrati in questa macchina. Io non... È proprio così. Prima di questa macchina c'è stato silenzio per tre ore e mezzo. C'è nessuno che ha dato. Eravamo storditi da quello che avevamo ascoltato. Poi a questo punto siamo fermati in una pompa di benzina. Siamo entrati nel corso. Siamo entrati... Tutte queste cose in plastica. Cioè dove siamo? Ma veramente pianeta verde. Oddio mio. Poi dopo siamo tornati in macchina. E dopo a questo punto abbiamo visto una montagna. Un punto chiave. Perché lì poi in Australia non è che devi chiamarla forestale. E due vina permessi per fare una diga di scaviger. Sai. Per cui lì c'è una cultura. E lì nei corsi ti parlano di diga. Una giornata solo sulle diga abbiamo fatte. È ovvio che se ti faccio una giornata solo sulle diga. E mi dici vabbè ma io quando non la faccio la diga. Cioè mi trasferisco in Australia. Infatti non si parla di diga. Si parla di condensatori. Allora. In un certo punto abbiamo visto questa cosa. Tutti, tre, su un quadro. Ma lì è perfetta una diga. Cioè ti inizi a vedere le cose in maniera diversa. Sempre di più e sempre di più. Quindi veramente una sedimentazione. Però questo è il margine. Dove noi ci incontriamo? La battiglia. Quindi se c'è una battiglia. A un certo punto si incontravano dei gatti diversi. Perché poi le alghe iniziano ad essere fotosintetiche. Quindi dovete avere ossigeno sopra. Ok? Ora però provate un attimo a vedere. Come io creo qui il mio rifugio? Se ho tutte queste. Ho la radiazione. Gli ultravioletti. L'evaporazione. La mancanza di minerali. Come faccio a creare il mio rifugio? Cioè come lo fa il rifugio? Come faccio a ricreare questa vita nell'acqua. Che è sempre nell'acqua. Che rimarrà nell'acqua. Che non conosciamo vita al di fuori dell'acqua. Eppure siamo qui. Che ci sembra di stare. Eh? Inizio ad accumulare acqua. Io divento l'oceano. Io sono l'oceano. Che solamente le ho messo le gambine. Cioè il. La. 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 L'alghetta. Non è altro che un accumulo d'acqua. Però ci sono sempre le radiazioni. Ci sono sempre l'evaporazione. Dovevo crearmi delle ombre. Dovevo crearmi tutto un ambiente. Dovevo crearmi tutto qui. Mano a mano che sale. Che sale. Che sale. Che occupano questa parte. Ok? Ecco che. C'è l'argilla presente. C'è il resto. Presente. Si uniscono queste due. Questo complesso è debolissimo. Vedete che la vita. È. L'acqua. Umile. Non ha forma. Si aplasta. Dovevo c'è. Si adatta. Eccetera. In realtà ha una forza enorme. Perché l'acqua. L'acqua non si fina mai. Non vi preoccupate. Non si fina mai. Perché l'acqua come molecola. Per romperla. Ci vogliono. 300. 3600 gradi centigradi. Per togliergli un braccettino completamente. Cioè. Non modifica. Quindi ha questa capacità di passare attraverso. La merda. Piuttosto che le rose. Dalle tame. E uscire inalterata. Ce la si pulisce rapidamente. Ed è bellissimo. Questa cosa. Perché non. Lei dentro non modifica. È come noi. No. Che fossimo veramente. Serenie. Potremmo andare anche a dormire a Romanazzi. Eppure. Rimaniamo. Inalterati. Con 2000 asciugamani. 42 lenzoni. Quattro cuscini. La televisione. Nera. Però. Rimaniamo. Tentiamo di rimanere inalterati. È così. E godiamo di Romanazzi. Perché no. Una colazione fantastica. Ci vogliono. Eh. Il sorriso. Allora. Quindi. Che cosa succede. Succede che. Questa roba qua. Che non è vita. Ma è fatta di vita. E non vita. Inizia a farci capire. Questa qui. È il sostituto. Dell'acqua. Perché. Cosa fa la terra. Cosa fa l'argilla. Che è così. Che l'ha detto adesso. Michele. Appena lì dai l'acqua. Cosa fa. Quindi è un ottimo accumulatore d'acqua. È una spugna. Cosa fa l'umo. Anche lui. Ok. Ok. Quindi riusciamo a portarci un po' più l'acqua. Oltre a noi. Essere viventi. Avere tutta quest'acqua. Però dobbiamo anche averla come. Non nelle nostre case. Cosa che succede dopo che abbiamo usato il cemento. Perché il cemento non traspira. È argilla il cemento. Quindi assorbe l'acqua e te lo trattiene lì. È tossico. Chiura i funghi. Ti chiama i polmonari. Certo. Si usava la calce spenta. La calce idraulica. Che trastirava. Che era perfettamente pulita. E igienica. Non più da più. Ok. Allora. Ok. Quindi. Lei si gonfia di acqua. Va bene. Poi. Cos'altro ci serve qui? I minerali. Uh. Abbiamo un accumulatore di minerali. Che li mantiene lì. Perché non c'ho io il contadino che va a mettere il minerale in soluzione nell'acqua e lo dà alla pianta. Eh. Quello è come se fosse il pesce. C'è la soluzione. Assorbe quello. No. Qui dentro non c'è acqua liquida. Dentro i sistemi selvatici. Come faccio a prendere questi minerali? Intanto vediamo che qui abbiamo delle cariche. Ok. E poi abbiamo anche un altro elemento del complesso. Questo è un complesso geloumica. A quale si attacca anche un altro ragazzino. Di cui è pieno ferro. Più più. O più più più. O poi metteteci i più che volete. Quindi ho ciò. Vedete. Un. Che non è unito a questo. Però ho la possibilità di attaccare. Elementi positivi e elementi negativi. Ma sono tutti. Eh. Sono. Ehm. Legami. Estremamente deboli. Sono legami. Mh. Idrogeno. I legami idrogeno. Sono debolissimi. Però l'acido. A quantità può farne la forza. Ok. Però è ovvio che se io lì. Ci butto dell'acqua. Cosa fa l'algina? Si stacca dall'umus e va in sostensione. Vedete perché l'acqua liquida è un problema? Per questo mondo che ci siamo ricreati d'acqua qui. Sull'aria. Ok. Per questo è un problema. Dobbiamo stare molto attenti a usare irrigazione. bene. I bourguignon. Questo libro è d'obbligo. No. Ehm. 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 che mi tiene la fertilità lei e mille altri lei e i microrganismi che mi creano questo. La terra è stata fatta all'inizio ma chissà se io prendo una piantina la metto la metto in laboratorio con delle radici e attacco della mica sotto la mica è minerale. Se io metto della mica vicino, nel giro di pochissimi giorni, la radice, perché ha delle sostanze, degli enzimi, ha rotto il minerale, l'ho aperto, ha dato il suo contributo, una parte di sé è morta, che in realtà è viva, e la parte inorgane ha creato la terra. Crea l'argile e crea la terra, dalla mica. Quindi le radici fanno terra. Allora io vi posso dire una frase che dico sempre, primamente, che dico una pianta non ha bisogno né di acqua né di terra. Si raccoglie la sua acqua attraverso le foglie, il suo sistema, si fa la sua terra con le sue capacità. Però questo geologicamente era all'epoca, all'epoca le prime alghine hanno fatto la terra. Non sono loro, era una conseguenza. Abbiamo un rifiuto, ta, è venuto poi qualcosa di buono. Vedete? Fate dei rifiuti, una risorsa. Sempre, perché se no avrete inquinamento. E non come la camorra, per favore. Non bancario, è una risorsa di altro tipo. Allora, quindi, vedete che bellissima questa cosa, mi piace proprio tanto, perché inizio veramente a sentire, quando io ho sentito che l'ho pensata, ce l'ho dentro il modello. Cioè, io sento proprio questa cosa di questa vita che cerca di proteggersi, di mantenersi liquida, di mantenersi umida. Allora, questi qui vanno qui sopra. Adesso, in questa epoca, Giorgio, poi cambia sempre. Chi è che fa la terra? Principalmente, chi è che fa la terra? Quali organismi fanno la terra? Principalmente, oltre le radici, i microorganismi, tutti quanti, eccetera. Perché contribuisce maggiormente alla protezione? I lombrichi e le formiche. Loro sono quelli che in questa epoca fanno il 60-70% di... E Darwin l'aver visto. L'animale più amato da Darwin era l'ombrico. E lo ringrazia anche per aver coperto i resti archeologici, che così si sono mantenuti. Perché è l'ombrico che va. L'ombrico cosa fa? Scende. Vi ricordate che vi ho fatto uno dei tanti stratificazioni della terra. Quindi abbiamo la lettiera, l'humus, la terra e l'argilla. Non è sempre così, ovviamente. Qui ancora meno. Però che cosa fa il lombrico? L'ombrico scende, mangia l'argilla durante il giorno, risale, mangia l'humus durante la notte, caga terra. La formica, se voi vedete le casette delle formiche, hanno quelle pallottine? Loro non la fanno mangiandola, loro lo fanno con il loro liquido. Perché le formiche, sapete, mangiano solo liquidi, non mangiano sostanze dure. Quindi loro entrano dentro la terra per scavarsi e loro poi hanno una fattoria, le formiche. Hanno funghi, hanno microrganismi. Loro coltivano, fermentano, hanno delle cucine, dei laboratori incredibili sotto. Qui loro scendono, scavano perché devono farsi un'ultima cantina con l'ultima fermentazione, probabilmente anche alcolica perché è sicuro. Posso credere se non ce l'ha. scavano, portano questo pezzo di, diciamo, di minerale in bocca, il quale si mischia e lo depositano, grazie alla loro, li fanno unire e lo depositano come sottoforma di terra. Quindi la terra è fragile e forte, l'acqua è umile, potentissima. È su questa dicotomia si dice che dobbiamo lavorare. Quindi, allora, ovviamente abbiamo gli elementi. Che altra funzione può avere la terra? Abbiamo detto che questo luogo in ospitale ha tante forti energie, tra l'altro gli ultravioletti. La terra crea un rifugio. Allora, io vorrei dirvi, ma la maggior parte di biomassa, cioè la maggior parte di organismi, macro e micro, stanno sotto terra. Cioè, qui noi siamo i pochi che rimaniamo, infatti siamo un po' così. In realtà la maggior parte di organismi stanno qui sotto, in quantità, ok? Molto più che nel mare stanno qui sotto. Cioè, praticamente è tutto un pullulare di organismi, grandi e piccoli. Allora, è ovvio che praticamente io cosa ho fatto con la terra? Io con la terra mi sono costruita la mia grotta. In fondo noi anche abbiamo vissuto nelle grotte tanti anni. Adesso l'horship è praticamente una casa dentro la terra. Questa cosa qui crea una protezione a che cosa? All'ultravioletti, ma anche al calore. Ok? E chissà, fra un altro miliardo di anno ci sarà un'altra cosa, che sarà la plastica trasformata che ci aiuterà a creare un altro ambiente. Perché noi siamo naturali, io non posso pensare che quello che noi produciamo sia non naturale. È sicuramente parte del pianeta. Se il pianeta lo pigliamo come quasi chiuso, escluso il Sole, e le comette che si rompono e che lasciano acqua a 10.000 km di altezza, e tutto il resto di informazioni che ci arrivano, quindi chiuso il cavo. Insomma, tutto quello che noi... Ok? Anche i rocazzi, insomma, gli etruschi di Reazione Comunica ne sapevano benissimo, cioè trovavano luoghi... Ma perché dobbiamo resistere noi? La vita resiste. E noi che ce ne imporano. Facciamo i romantici, eh? La plastica resta, perché la plastica durerà un bel po', eh? È come l'ossigeno, certo? Certo, è arrivato l'ossigeno e sono morti quelli che non ce la facevano. Ci sono protetti. Comunque, allora, quindi, mi proteggo da escursioni termiche, freddo e caldo, radiazioni. No, appunto, non posso pensare che non sia tutto naturale per una scala, quindi io includo anche la plastica di tutte queste cose, e come... Quindi si trasformerà. No, non ho finito lì il discorso, no. Nel senso che, voglio dire, se a una certa era geologica, qui era tutto... Ad esempio, capi bocchino? E cargonifero. Cargonifero pieno di... I bocchino sono un'altra cosa. Cargonifero solo pini, solo conifero delle parti, perché le angiosperme, le piante con i fiori, non erano ancora evolute. Questa massa di coso, cosa ha creato? Ha creato tantissimi tipo aghi di pino nel terreno. Ora, gli aghi di pino hanno tanta legnina. Abbiamo visto che i batteri non sono molto bravi, e probabilmente i funghi ancora non erano così tanto evoluti da poter mangiare. Quindi si è accumulata, 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 si è solo accumulata un'energia che fortunatamente... Carbon fossil è finito. Poi non potremmo anche usarla. E la maniera come la usiamo, che è assolutamente da follia. Ma non è che non possiamo... È un'energia che si è accumulata, che in quel momento lì, non c'era nessuno che sapeva usare. È carbonio. Carbonio? Fossile cosa vuol dire? Fossile cosa vuol dire? No, semplicemente che è uscito... un cittadino, come stagliamolo, un cromatico o un fossile. Perché come fai a rinforzarsi per uscire? Ci vedremo un po' di vedere, ma troverà anche lui. Un cromatico! Una contiglia e un fossile, perché non mi dà più il calcio e il carbonio dopo per fare altro. È uscita... Il tangito della vita. Così vuol dire un fossile. Non è che se è un fossile vuol dire... Se fossile vuol dire che non ti dò di niente, mi tengo tutto io. sono fissa, non sono dentro in questo scambio continuo di elementi allora quindi in quest'epora qui in tutte queste conifere è successo questo e in Poignone hanno una teoria bellissima sui dinosauri che ve la devo raccontare perché dice che i dinosauri sono estitti secondo loro non perché ci sono tante teorie ma la loro teoria è carina nel senso che loro si cimavano di conifere le conifere non fermentano così velocemente perché sono molto lente quindi potevano mangiare questa cosa, assorbire quello che potevano e rimanevano bene quando però sono arrivate poi le angiosferme hanno iniziato a mangiare queste piante le quali invece non hanno le linee a così tante quindi sono molto più attaccabili praticamente sono enormi diarre perché hanno cambiato la loro dieta quindi è diventato un inquinante le nuove piante quindi vedete che c'è sempre un inquinante e poi dopo trova il suo luogo va bene io direi quindi la terra ci dà protezione è ovvio che io non devo avere terra nuda perché se c'ho terra nuda non mi isolo più dal calore anzi c'ho una massa termica quindi creo spiacevole abitazioni intorno a casa creo evaporazione morte dei microrganismi perdita di... la temperatura mi si alza cosa abbiamo detto che abbiamo bisogno? noi c'è un inquinante per avere l'affertità del terreno se io alzo queste cose qua ovviamente il nostro problema del Mediterraneo cos'è? che abbiamo due mesi in cui l'emperatore è molto alto quindi dobbiamo cercare di proteggerci un po' di più e poi un'altra cosina che è un problema se noi continuiamo a mantenerla umida e a mantenerla continuamente ad esempio è ma questo ci verrà sopra sicuramente non mi ricordo mai il nome va bene il ciclo del fosforo passa per il 70% attraverso i funghi se io aro la terra rompo le microrizze rompo i funghi io non c'ho più fosforo le piante soffrono di mancanza di fosforo e allora è ovvio che devo andare a comprarlo a sprecare la mia energia a metterlo nell'acqua a versarlo sopra a perderlo a creare problemi alle salde sotto eccetera eccetera e tutto lavoro stanchezza fatica malattia io ho lavorato sul cancro cioè voglio dire perché dobbiamo finire sempre ad ammalarci? solo per un sistema che già funziona solo bisogna un attimo osservarlo e farlo funzionare lui come ho cercato di fare con mia figlia allora dunque i funghi e poi anche un altro problema perché c'è i problemi di salinità nella terra ma non tanto perché noi gli diamo acqua salmastra anche se è vero è ovvio che se io continuo a ciucciare acqua da qua l'acqua dal mare mi entra dentro non è che posso uscire da questa cosa e l'acqua salata alle piante non fa bene perché non fa bene? è come quando io continuo a mangiare sale il sale ok essendo fatto di due ioni ok andrà subito in soluzione quindi io mangio e nello stomaco mi va in soluzione viene assorbito dai vini intestinali il sale non deve essere i minerali non devono essere assorbiti a questo stadio devono essere assorbiti a questo stadio nell'ultima parte dell'intestino quindi io devo mangiare un complesso che è fatto di proteine eccetera eccetera carboidrati in cui ci sono degli elementi minerali intorno che quando i minerali non sono liberati io non li posso assorbire ho bisogno di fermentazione prima aerobica poi sempre più anaerobica e questa fermentazione si deve fermare alla prima parte dell'intestino perché se io fermento nella parte bassa vuol dire che non sto mangiando correttamente perché si deve fermare? perché se io arrivo all'ultima parte dell'intestino con un bolo alimentare che ancora non è scisso come cazzo faccio a prendere i minerali? e parlo delle cose più importanti non tanto di un cloruro sodio che è tutto sommato ma parlo di tutti gli altri minerali in oligo elementi magnesio, manganesio di tutti di cui ho bisogno di poco abbiamo visto che non siamo fatti di aria e di acqua ma se io non li mangio ha l'integratore alimentare in farmacia ma cosa vuol dire andare in farmacia per l'integratore? perché io vado in quell'orboristeria figa tutta così mi danno questo vuol dire che dietro c'è un'industria un trasporto un camion gente che fa un lavoro che non gli piace un costo energetico altissimo un'estrazione un inquinamento quando io invece basta che prendo perché le verdure selvastiche sono saporite? perché sono piene di oligo elementi è l'oligo elemento che dà il sapore al cibo io posso anche coltivare biologicamente ma se io ho fatto in monocultura il sapore mi va via ok, non ho le cose ma non ho gli oligo elementi o non ne ho a sufficienza quindi io bisognerò di oligo elementi come la terra io sono la terra un organismo si è fatto la sua casa a sua immagine e somiglianza perché è da lì che deve prendere questi oligo elementi ok? e guarda io sono felice io perché non devo stare seduta no io ho anche finito qui solo volevo dire questa cosa qui allora che succede? come nel nostro organismo vedete che l'organismo come ecosistema gli racconta tutto come nel nostro organismo nella terra cosa succede? se questo Na o questo cielo o qualsiasi altro ione non è legato al nostro complesso agillo umico ma è libero io sono positivo ah tu sei negativa? tron ecco la precipitazione dei sali i sali non vengono perché non ci mettiamo il sale sopra vengono perché questi due ioni sono lì per essi nessuno ce li ha l'acqua tron li fa unire e allora è un problema perché la pianta non li ha più a disposizione i microrganismi col sale blocca il sale cosa fa? blocca la fermentazione quindi quella schema che abbiamo visto ieri di lo scotch lo vedo ma sto cercando la pagina oltre allo scotch che mi blocca quello eccolo qua che abbiamo che abbiamo visto ieri noi per ricreare l'attività del terreno cioè per promuovere la vita in questo luogo in ospitale che è questo che due miliardi e mezzo di anni fa la vita ha iniziato a occupare abbiamo bisogno di dargli tepore e non calore umidità gas in maniera lenta se no c'è evaporazione ovviamente luce se fa ci devi raccontare una cosa sui margini ah si ma ci avete pazienza? no no stai stanchi no no dai dai vabbè c'è pomeriggio però me lo ricordi è un po' Grazie.